Qui vi presentiamo le 5 migliori chiclite pieghevoli. Iniziamo! Per maggiori informazioni, guarda la descrizione sotto il video. Iniziando la nostra lista al numero 5. Wufit MXC1, chiclite magnetica con struttura pieghevole AX. Il Wufit MXC1 è perfetto per chi ha spazio limitato a casa. È estremamente sottile, leggero, portatile e occupa poco spazio. I pedali sono dotati di un grande supporto antiscivolo, quindi per quanto riguarda le lesioni da evitare lesioni. Hanno cinghie regolabili appropriate per tutte le esigenze e sono strappate. Questo, naturalmente, garantisce una pedalata fluida e facile da eseguire. La sella è piuttosto grande oltre che imbottita. Questo rende la chiclite estremamente confortevole, anche per esercizi più lunghi. Il sedile può essere riadattato in altezza ma non estetico. Passando al numero 4. Torx Chiclite BRX Compact Unisex Adulto Torx BRX Compact è uno strumento con cui è possibile allenarsi direttamente da casa. È una bicicletta stazionaria pieghevole del peso di 20 kg. Ha un bel layout, è sottile e occupa poco spazio. Una delle funzioni più utili di una bicicletta stazionaria pieghevole è che può essere piegata e salvata ovunque in casa. Il manubrio viene riparato. Una volta aperta la bicicletta stazionaria per l'allenamento è paragonabile a una chiclite portatile. È una chiclite magnetica e anche di conseguenza la resistenza è un po' più di una chiclite di tipo tradizionale. Maggiori informazioni. Guarda la descrizione sotto il video. A metà della nostra lista al numero 3. Ultra Sport Unisex F Bic Advanced Exercise Bic. È una chiclite pieghevole che può essere facilmente utilizzato a casa e anche salvato dopo l'allenamento. È uno strumento orientato con unità di rilevamento delle mani. Adatto a coloro che cercano un allenamento leggero da fare una o due volte a settimana. La frequenza cardiaca è monitorata direttamente da alcune unità di rilevamento posizionate all'interno del manubrio. È una chiclite perfetta per chi desidera mantenere la salute direttamente dalla residenza. È estremamente leggero, sottile, molto facile da configurare, da aprire e chiudere quando lo desideri. Il peso massimo che può tenere durante un esercizio è di 100 kg. A most at the top of our list at number 2. Ultra Sport F Bic Advanced, chiclite pieghevole con display LCD. L'istruttore Ultra Sport F Bic Fitness è una bicicletta stazionaria che può essere utilizzato direttamente dalla residenza con unità di rilevamento del polso. È una bicicletta stazionaria pieghevole con 8 cuscinetti a doppio senso. È davvero facile da usare, da configurare e anche da aprire e chiudere. L'allenamento che si svolge con questo tipo di bicicletta stazionaria è finalizzato a tonare i tessuti muscolari del corpo. È dotato di un display LCD su cui vengono suggerite numerose specifiche durata, perdita di calorie, velocità, distanza, polso. Può resistere fino a 130 kg. Magnificamente sviluppato e anche facile da trasportare. E infine il numero 1 della nostra lista. Sport Plus Kiklit è pieghevole La spazio Bic è pieghevole Sport Plus è uno strumento che ti assicura un alto grado di allenamento e ottimi risultati allenandoti nella comodità della tua residenza. Gli 8 livelli di forza ti consentono di variare le impostazioni e personalizzare in modo efficiente il tuo allenamento. Il comodo schienato integrato a carico può essere riadattato in elevazione, adattandosi all'altezza di ogni sportivo con un peso ottimale di 100 kg. Il manubrio è costituito da sensori di impulsi a mano per consentire un monitoraggio costante del prezzo CAR-D. Per maggiori informazioni, guarda la descrizione sotto il video. Grazie per aver guardato il nostro video. Per più, iscriviti al nostro canale.